Il tanto atteso e invocato confronto sulla situazione del trasporto pubblico locale c'è stato. CGL, CISL, Will e UGL, anche se in videoconferenza, hanno avuto un primo faccia a faccia con il governatore Toma, che ha avvocato a sé la delega ai trasporti. Da anni i sindacati sostengono che i seri problemi nel servizio su ferro e su gomma sono da ricercare in modi di programmare e progettare vecchi. A Toma hanno subito posto la questione stipendi, il problema dei problemi per chi rappresenta gli autisti del servizio su gomma, hanno detto CGL, CISL, Will e UGL, ricordando al governatore quando in una riunione in prefettura prospettò la possibilità che alla regione di sostituirsi alle aziende che non pagano puntualmente l'espettanza ai propri dipendenti, evidenziando le difficoltà che incontrano un lavoratore e la sua famiglia in questo periodo storico di stipendi dimezzati e ammortizzatori sociali che arrivano a scoppio ritardato. Ritardi e mancati pagamenti degli stipendi non sono giustificabili dal momento che la regione è perfettamente in linea con le spettanze dovute alle imprese, è il concetto ribadito da Toma come riferito dai sindacati a margine dell'incontro. Occorre garantire la puntualità dei pagamenti ai soggetti, nella stragrande maggioranza dei casi monoreddito è la richiesta. Noi hanno continuato i sindacati, faremo quello che ci è stato chiesto, una proposta in tal senso affinché la regione veda di attivarsi. Altro punto denunciato da CGL, CISL, UGL è quello che definiscono il rapporto sbilanciato tra aziende che ricorrono metodicamente al contenzioso giudiziario sia verso l'assessorato sia verso i dipendenti e regione. Il governatore ha ascoltato, ha preso appunti e ha garantito che affronterà a modo suo la delicata questione promettendo che prospetterà le proprie modalità di risoluzione del problema. Attendiamo l'esito di questo nuovo e inusuale tentativo con il sogno che se si risolverà una volta per tutto il problema del pagamento puntuale delle spettanze dei lavoratori della gomma, ci si potrà finalmente dedicare ai problemi di chi fruisce il servizio. Noi abbiamo promesso di dare il nostro pieno e fattivo contributo. Si tratta di attendere una decina di giorni, hanno concluso i sindacati, nulla rispetto agli anni passati in infruttuosi tentativi.